allo buongiorgio ehi andrea bello andrea e vabbè abbiamo fatto un esperimento di variare i sogni se le vuole anche oggi ti faccio fare un esperimento metto in parte le sipie da fare in umido e la purisco io, te la taglio e ti fa una bella sete interessa come ti senti a distanza di sicurezza a presto 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 siamo amati della cipolla, poi scalogno vi dà che il retrogusto in più, scalogno, scalogno, allora aglio scalogno, mettiamo una buona passata se si può di pomodoro, la facciamo dare bene in ebollizione, noi intanto a parte ci prepariamo le nostre belle sepie pulite e tagliate, quindi che vediamo che il pomodoro bello e bello fumante, come bello 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 figlio di Andrea è bello fumante, mettiamo la nostra seppiorina dentro, ora di cottura, mezz'ora, ricordiamo sempre che la sepia e la piovra o il folpo non hanno tempi di cottura lunghi, quindi cottura breve, ma dentro in pentola su fuoco praticamente, quando che il pomodoro va in ebollizione metti la tua sepia bella tagliata dentro, mezz'ora spegni il fuoco, possibilmente la mangi domani, da oggi a domani, perché la sepia ha il stesso procedimento del spezzatino e il giorno dopo è sempre più buono. Allora qui abbiamo le seppe che ci ha dato l'amico Francesco di Alciobanco di Pio di Sacco, quindi vediamo cosa riusciamo a preparare. Ovviamente non ho la pretesa di fare il bravo cuoco, dopo mi darete voi le vostre dritte. Francesco mi ha già fatto preparare le dritte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 E quindi grazie di consigli Grazie all'amico Francesco Teozzolia Che è la pescheria appunto a Pio di Sacco E veramente tutto Io l'ho già assaggiata e è ottima Vi assicuro Grazie a tutti